Può partire? Ah l'aereo sta passando proprio l'aereo, sai che si fa? Allora, salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Brex e io sono Leon e stasera siamo qua per provare un gioco fierissimo o lezzo ancora non lo sappiamo ma ne dubito e non vi diciamo, vabbè, l'avete già letto dal tutolo l'hanno letto, dal tutolo l'hanno letto vai apri, apri il punto ex, l'eseguibile questo programma è offerto da Ace Media ma quanto tempo è passato, mamma ma questi sono i vecchi video, cioè no, fantastico cioè questo gioco è per persone senza una vita, è il suo gioco quindi Zembro non ha una vita è orribile metto un cesso in cucina guarda un attimo le opzioni Master Music Zembro Zembro ah è la voce di Zembro questa guarda bellino Zembro, è la sinistra fierissimo allora aspetta, extra, aspetta, cos'è extra? sai che sono i riconoscimenti DLC no no non è DLC crediti DLC ah vabbè guarda le DLC per favore e se non c'è niente eh no Fatima no, Lizzi esendo una demo me l'aspettavo meglio un morto in casa che un battle chest oddio, meglio un morto in casa che un battle chest nel disc ok, nuova partita slot 1, vai modalità un zio su, l'Ezzo, Fiero aspetta, su, l'Ezzo che dice? una sfida su IA e c'è una merda l'Ezzo una sfida bilanciata Fiero che dice? più un culo di un tacchio una sfida di Sgamer schifo vabbè basta io direi lezzo modalità media perché non sappiamo ancora i nemici che ci saranno nel gioco quindi esatto vai ecco perfetto Bibbiena madonna che si vanno a dire? 24 giugno che? Casavianello casa Caselli casa Caselli Pozzo di merda di un gioco l'ercioso 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 Premi ID per muoverti Vai gioca a te Salve a tutti ragazzi siamo di nuovo qua Su Sirius Zeb Per chi ha seguito la live Abbiamo avuto un piccolissimo problema Tecnico perché il suo computer Praticamente è esploso E quindi abbiamo dovuto registrare In un altro giorno Adesso siamo di nuovo qui su Sirius Zeb Non siamo mai andati oltre questa schermata qua Che ci dice come muoverci Quindi l'avventura vera e propria inizia ora Esatto E intanto c'è da notare Bellissimo il quadro del padre lì a sinistra È bellissimo Poi c'è il quadro di Sirius Sam Quello sempre comunque Ah poi c'è anche il monitor girato Dall'altra parte al contrario Secondo me l'ha girato perché Non vuole che si sappia che è il monitor della Apple Sì anche Ma secondo me Perché è un messaggio subliminale Al ventilatore montato all'incontrario Correggetemi se sbaglio sviluppatori No davvero se l'avete fatto perché lo siete dei miti Siete davvero dei miti Ne sono sicuro Lo zio No dai Dal conto Oddio Allora Per il pentilato Per aprire le porte interne Ci ricordo alcuni oggetti Tac Guarda la porta Tac Tac Due frame di animazione Da perché c'è Zeb Perché si lamenta delle porte Che si aprono così no Chissà se al piano di sotto c'è il gatto fiero Chissà Chissà Ah è vero con W si salta Ah c'è anche la stamina guarda Oddio in casa di Zeb c'è Esiste una cucina in casa di Zeb Strano ma è vero C'è il cestino Il cestino è alto quasi come le spalle Pieno di scatoloni di pizza Sì o se no di confezioni di Call of Duty Ah poi c'è la caffettiera quella con cui ci beve direttamente Nei video sì Nei vecchi video Chi si ricorda Noi non siamo fan di Zeb 89 eh No non si vede no E con queste arriveranno i dislike Sì gli haters a manetta Porta una sega a me dai su No Cosa Il quadro Il quadro della ragazza Oddio Con tutti i cuoricini Con tutti i cuoricini Ah qua c'è la polizia guarda Polizia La intima di rimanere in silenzio Ogni parola potrà essere usata contro di lei in tribunale Tribunale Ma cosa Zundunna sta succedendo? Ma te per la parte degli sbirri vai Chi crede di prendere in giro? È stato accusato di evasione fiscale E truffa per il progetto Ultimate Arena Secondo me è stato dell'imello Probabile ci sta ci sta Uuu zio Ma io sono innocente Forse la colpa è di Torres Che parla la Macarena in mezzo a nuvole È un riferimento a una vecchia YouTube pubblica Torres Non ci risulta Vai vai Le ripeto Non tenti di prenderci in giro Cosa? E dove? No Muzunna 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 è andato a finire Ma chi? Torres Ah beh boh Che lo sa Che lo sa Non aggravi la sua situazione Ci seguo in centrale Domani ci sarà il processo Il processo Il processo Il processo Cioè il cesso che viene prima No questa no Metti schermo nero Gli occhi nero Ha diritto ad un avvocat Attenzione succede qualcosa Un avvocat Premi z per diventare fiero Fiero Ah perché c'è anche quando non sei fiero Sì senza occhiali praticamente Ah senza occhiali z non è fiero È un lezzo senza occhiali Quando sei fiero Infliggi molti più danni Quindi devo premere z Premi z Vai Che sta Che ha tirato fuori dalla tasca Gli occhiali Gli occhiali Gli occhiali E ha tirato via la mano Ma non mi risulta che Zebbo sia un metallaro Hanno messo una parte di me Entra il gioco Sì Stai 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 sinistro Il mouse per attaccare Vai Attacchiamo Ah ecco cosa serve Un po' di azione Finalmente vai Oh Un po' di azione Quella guardia Sta Per sparare Ecco Penzo là Il messaggio Ti è riprimuto il tasto shift sinistro Per correre Vai Ah shift ok Premi W per saltare Vai sì Se salti Mentre corri Eseguerai Un roll Un roll Rollare ti permette di evitare I coltini Ok Rolliamo Vai Non fare Non fare la monetà Finisci il tutorial No Troverò torres E gliela farò pagare Su Sei sempre in modalità fiero Vai E se rollo Madonna che colpo d'acca nello scalino Davvero Mani in alto Culo in basso Tira fuori il materasso Sì 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 La vostra accusa Gravata resistenza pubblica ufficiale Vi garantiremo Un bel po' di tempo Per fresco Acciuffatelo Premi il tasto centrale Ah sì La rotellina Sì la rotellina Per difenderti Prova Se attacchi Io vorrei fare il napoletano Perché Sono lenti questi messaggini Se attacchi mentre Sark Eseguirai un calcio volante La Chuck Norris Guardalo E intanto quell'altro Lo tiravo anche di sotto No No Ricchia picchia No Hai il culo più largo del torale È il culo più largo del torale Non hai una vita Non hai una vita È un poliziotto Dice Non hai una vita È il culo più largo del torale Cos'hai Ritz? Ritz Ritz ti permettono di recuperare Salute Oh buono Ma Ritz sono le patatine Quelle che mangia Zebe nei video Non sei più fiero? No No La let's dance Ma no Questo è Iron Man Vola Madonna Calcio nel muso Così guarda Che hai detto? Testa No non l'ho capito No la let's dance Cos'è il Cioè uno shuriken? Direzionali Del joystick Premere Q Per lasciare Uno shuriken Uno shuriken Uno shuriken Uno shuriken Perché Shuriken Attenzione Con Q No non lo spiegare No 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 Un altro shuriken Un viz Vai provo a lanciare Lo shuriken Fatto male Oddio Con le braccia Tutte te Fatto male Cos'è? Il Gator Raider Il Gator Raider No Ma c'è tutto Di Zeb Qua dentro Marcio Perché marcio Perché mi sono Boh Ah ho fatto quel giochino Quello che si fa Negli FPS Quando sconfiggi L'avversario Ah si Vai prendi Il Gator Raider Ah il Power Raider Ci siamo dati vicini Dai Ti permette Di correre Quanto vuoi 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 Ma sta sudando Puoi usare la stamina Quanto vuoi No di là Di là Ah di là Vai di là Sì sì Aspetta che c'era Di sotto Siamo C'è il muro visibile No Erizz Suino Suino Non hai una vita Speriamo che YouTube Non ci spari il copyright Per la canzone Speriamo Davvero Sì Che night 90 famosissimo Che night 90 famosissimo Speriamo Speriamo Sì ma è difficile Eh Io sono il migliore Ma perché si sdraia Marili di merda Marili di merda Ma perché si sdraia Prova andare giù Nelle foglie Ci puoi andare No mi sa di no Vai più su Vabbè Mi sa di le scale Allora vediamo cosa c'è in su Ritz Muori Ah la cosa positiva Cosa positiva Che il calcio volante Funziona anche Nella fase d'atterraggio Madonna Prendetemi I miei Shoes Lezzi Però non fa Non sembra Che non facciano malissimo Muori Muori Quinto destro Quinto sinistro Vai Zeb Con quei braccini Con quei braccini magri Che ti ritrovi Un mezzo Un mezzo Una vicina Vabbè Io mi stai malinando Lui ho poliziotto Del tesi Il lezzi Sì davvero Letame Letame per tre No per le di sui lezzi Vabbè Hai visto il sito Letame per tre È vero Cioè che punti Mori No non me l'ha preso Il salto volante Vediamo se ne ha scoposto D'altra parte No No Eh mi sa che queste chiuse Non le puoi Ano 15 Ah non possiamo fare I napoletani Esatto Ragazzi ho degli amici Napoletani Quindi non vi offendete Sì no infatti Guardi che di merda Ecco Ci stanno sempre Le battute Ma io non so se stanno Andando nella direzione giusta Ma penso di sì Ci sono i nemici Siete letane Siete letane Ma è schifo Schifo Ci stava Ci stava Chissà se Ci sarà qualche Qualche tifoso di Skyrim Può essere No perché al momento Dobbiamo evitare Di andare in tribunale Sì Quindi E Ritz Fieri Ritz Sono le patatine Fieri di Zeb Su Su 1 per 5 Vediamo cosa c'è su Ah giusto Ma la barre del Fierezzo È del Fierezzo Sì La Fierezza è piena Eh sì Però ce n'è uno solo Ce n'è uno solo E quando ce n'è di più Comunque quanti colpi servono Per farli fuori È un bel Su Alla servono Due calci volanti Ma forse in modalità Lezzo Ce ne vogliono Quanto Ah questa è la modalità Vai allora Diventiamo fieri Modalità fiero Fiero Guarda Guarda che bette gli occhiali Sì ci mette 30 anni Però Sì Vai 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 Picchia Miele mele Ma Oh è sano Che non hai una vita Io sono il migliore Sto adorando La fai Dai davvero Non hai una vita Però manca la battuta Più importante Di Zelda Cioè Volevi 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 è diventata È diventata Un hit Sì infatti Ci hanno fatto anche Magliette di tutte Dato che questa è una demo Prossimamente Inserita questa battuta Quando qualcuno voleva spararti Che ne so Magari quando Quando uno usa O fare il colpo O quando lo scrivi con il roll Bravo Stavo per dire Quando scrivi con il roll Senti Eh volevi Cos'è la carta Questa è il skimmer Cos'è Un checkpoint Può essere Sì Il posto di blocco È troppo per me Ah è sempre Questi lezzi Non mi faranno Mai passare Potrei usare Quel tombino Che ho visto Mentre venivo Poi Ah sì Quello di prima Che bloccava le scale Che bloccava le scale Grazie a tutti.